Con Luni, i bambini scelgono gli elementi del racconto e ascoltano le storie che hanno creato. 48 audio storie originali, pronte per essere composte e ascoltate sulla fabbrica delle storie, quando è nel modo in cui i bimbi lo preferiscono, a casa e in viaggio. Decine di album audio da scoprire su Luni.com. Basta scaricare il Luni Store, collegare la fabbrica delle storie a un computer e scegliere nuove avventure. Ad ogni età i propri eroi e le proprie storie, per sognare, esplorare e imparare divertendosi. Grazie all'applicazione Luni, i bambini possono registrare i propri racconti e le loro storie preferite, raccontate dalle voci della famiglia. Il mago entra nella grotta del drago e gli chiede aiuto. Ho trovato un tesoro tra le montagne, ho bisogno del tuo aiuto.